Si è proceduto all'approvazione della manovra finanziaria 2018 e sono stati due giorni fatti di sciatteria e di documenti forniti all'ultimo momento, con Pittello e la sua giunta in forte impasse a causa della mancata parifica del rendiconto 2016 da parte della Corte dei Conti e l'attuale situazione di gestione provvisoria. Lo afferma il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Giovanni Perrino, che sottolinea in particolare il poco tempo per approfondire e i molti limitati spazi di manovra per poter rincidere. La stessa relazione del presidente Pittella è stata caratterizzata dalla stanca elencazione di numeri. Nelle prossime settimane dovrebbe giungere all'attenzione delle commissioni il collegato alla legge di stabilità e sarà in quella sede che proveremo ad incidere con gli emendamenti. Conclude Perrino, sottolineando che l'Aula ha approvato due suoi ordini del giorno relativi ai cosiddetti corsi della politica.